Bene a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovissimo video Oggi vi porto un gameplay davvero pazzesco perché ho devastato letteralmente tutta la lobby Mentre che stavo giocando in ranked in solo, chiaramente in Unreal E raga, ho fatto tante di quelle snapperate che io penso che il Metal Lobby mi avrà reportato E mi avrà letteralmente odiata come non mai Ma prima di cominciare con questo video ragazzi volevo fare uno shoutout ai ragazzi di Elgato Che mi hanno inviato questo fantastico e nuovissimo prodotto che è uscito letteralmente da poco Sto parlando del 4K Pro Che è appunto un game capture che vi permette di registrare il vostro gameplay a una qualità veramente pazzesca Sia in 4K che in 8K chiaramente a 60 framerate in entrambi i casi Chiaramente si può utilizzare in tutte le piattaforme possibili e il gameplay verrà sempre registrato in HDR Quindi massima qualità con 0 input lag e 0 frame drop E peraltro hanno anche aggiornato il design rendendo appunto questa scheda molto più sottile e anche molto più bella esteticamente Ma ora vi chiederete Martina a te in questo caso a cosa ti serve il 4K Pro? Ve lo spiego subito Per chi segue le MLive su Twitch avrete sicuramente sentito il mio annuncio che ho fatto qualche tempo fa Inerente al fatto che appunto mi sto per costruire un dual setup Il dual setup sarebbe un secondo computer appunto che mi permette di streammare Questo perché attualmente io ho solo un computer e quindi streammare e giocare solo con un computer Mi rende il gioco comunque molto pesante con più input lag e chiaramente mi fa anche frame droppare Specialmente durante gli endgame su Fortnite In questo caso essendo che andrò a costruire un computer interamente per lo streaming Farò in modo che il pc da streaming e il pc da gaming si collegheranno tra di loro E il tutto sarà possibile grazie a questo game capture il 4K Pro Che verrà appunto inserito all'interno del mio computer Che mi permetterà di registrare il gameplay chiaramente in tempo reale Con chiaramente la massima qualità 0 frame drop e 0 input lag E chiaramente mi permetterà di giocare e streamare a una qualità estrema Ma anche i video su YouTube in realtà da oggi in poi cominceranno ad essere ancora molto 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 più alti di qualità Quindi ragazzi tutto ciò non sarebbe possibile grazie a questo fantastico prodotto che è il 4K Pro Quindi ci tengo a ringraziare ancora di cuore il gatto per avermi inviato questo fantastico prodotto Non vedrò di costruire il mio dual setup, non vedrò di utilizzarlo E non vedrò di portarvi dei contenuti ancora più alti a livello di qualità Quindi ragazzi se volete avere maggiori informazioni inerenti al 4K Pro vi lascio qui sotto in descrizione il link E se volete guardare anche tutti i vari prodotti del gatto Dateci un'occhiata perché come sapete sono letteralmente essenziali Soprattutto per il mondo dello streaming Ma ora ragazzi non perdiamoci in chiacchiere Quindi lasciate subito un bel pollicione in su Iscrivetevi al canale e mi raccomando Vi aspetto in live su Twitch tutti i giorni dalle ore 16 Ora però ragazzi vi auguro una buona visione Ok ragazzi where ares Ma cosa è sta giravolta? Mamma mia quando c'è la madre porca p***na che fai i bocchini E purtroppo lo sai una cosa brutta perché dici Come mi ha concepito a me dal c***o o dalla f***a? La risposta però è solo una Che noia Ora vusci ora che mi hai craccato No you gonna push me? Oh Grazie a Dio benedetto Ah no si è fermato ragazzi Il craccarmi non gli è bastato Devo imparare ad aspettare Goda mi s***o Ho capito Ho capito Menga suobbedo Goda mi s***o Goda mi s***o Ragazzi ma che ping c'hanno ve lo giuro Ragazzi io non ce la faccio però Sono morta Sono morta Scopi a c***o Goodbye Magari dobbiamo andare alle quattro e mezzo però la prossima volta Come stai? Schweppi a c***o Ok, ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Dai. Ne ripariamo un'altra volta. Quando sarà il mio livello forse ne possiamo riparlare. Dai, aspetta. Cavalcatina come tua madre. Ok. 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti